Negli ultimi dieci anni il numero degli apprendisti in Alto Adige è diminuito del 26%. Con l'obiettivo di invertire questa pericolosa tendenza e di prevenire per tempo la possibile mancanza di forza lavoro qualificata, attivandosi al contempo concretamente per combattere la disoccupazione giovanile, le scuole professionali altoatesine hanno deciso di attivarsi assieme all'Associazione Provinciale Artigiani, APA, per fare in modo che le scuole e le imprese trovino delle posizioni di stage da riservare ai giovani di età compresa tra 15 e 18 anni, garantendo loro in tal modo un primo e significativo sguardo sul mondo del lavoro. Tante volte i studenti non sanno e questo vogliamo far vedere anche in questo progetto, che è la combinazione tra la teoria che si impara nelle scuole e la pratica che si impara fuori in cantiere, direttamente in officina delle ditte, questa è molto importante. A delencare i vantaggi di cui può approfittare un'impresa con l'inserimento di una praticante, ci ha infine pensato la titolare di una ditta specializzata in impianti di climatizzazione. Noi abbiamo avuto tante esperienze nei ultimi anni, più o meno più di dieci praticanti abbiamo avuto nei ultimi anni e fino adesso sempre ha avuto buona esperienza. Ultimamente abbiamo avuto il nuovo apprendista che ha cominciato con questo pratico di cinque settimane. Per tutte e due le parti era ideale per conoscerci. Lui ha detto che questa sarebbe la sua professione, che vuole imparare e anche noi abbiamo visto che chi vuole imparare vuole fare qualcosa in questo campo.